Dal 1885 a Via Grande, Gran Caffè Urna, bar, tabacchi, tavola calda, pasticceria, gelateria, pizzeria con ampio giardino all'interno. Urna, garanzia di ottima produzione dal 1885. A Via Grande, in piazza Lorenzo Urna 36. Scegli di vivere la tua vita in villa. Oggi è facile, grazie al progetto Villa Bifamiliare a Fleri dell'impresa Giovanni Sciuto. Informati al 348 6708 530. La Chianina, trattoria carnezzeria. Se vi piace gustare la carne, vi consideriamo già nostri clienti. La Chianina, la qualità che cuoce, le carni e i tagli migliori per il piacere del gusto. Ci troviamo a Nicolosi in Via Longo 8, per info 095 28 82 843 o carnezzeria la Chianina punto it. NGA lavori edili SRL, Via Luigi Pirandello 3, Via Grande. Concedi a noi i tuoi servi, di averlo per intercessore in cielo, mentre lo veneriamo come patrono sulla terra. Per Cristo nostro Signore. Ame. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Per intercessione di San Mauro Abate vi benedica a Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Andiamo, grazie. 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 Grazie a tutti 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 Amore Grazie a tutti 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 Grazie a tutti